Sì, e può andare a diritto andato, lì, lì, povolini, mezzo al campo, frusta, esci dal capo, frusta! Dai, dai, subito, Carlo prova, tira! Dai, va bene Carlo, va bene, dai, gioca, sentire! Poi, lo difendi anche! cambia cambia Carlo cambia cambia calma, calma, calma Matteo calma, aspetta ad entrare Marco attento al 9 taglia, allargati, Massa, allargati, cambia sempre tardi Baskov un attimo prima, un attimo prima Dalla, non tenerla bello, vai in faccia, faccio vedere tu, se stai lì ferma non ti arriva mai vai no vai ragazzi cambiala vai Marco vai Marco andate a prenderla andate a prenderla vai Giorno le fatti vedere andate a prenderla no Luca vieni qua eh ragazzi basta tirare e starla a parte giro alzala da sotto guarda come basta vai stia lungo bravo Teo dai prendiamoli guardalo vai che sei più veloce bravi va bene Fabio aspetta vai su Vasco vai su Vasco va war Fabio paggio con i piedi calma calma ci metti ref스 metti il self via lunga ragazze fermi lì però Dai! Siamo in quattro avanti dalla palla Non possiamo essere in quattro più avanti dalla palla Via Teo, chiudilo Fabio sei in porta Un minuto? No, un minuto Mamma mia Saliamo, saliamo, saliamo Mili, dove sei? Guarda Luca Lui può, con la palla in mano, noi non diamo la loro Bravissimo Vai, 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 sali Vai, vai, sali Dai, saliamo Siamo lì Vai dentro Vai dentro Dai, dai, Luca Lascialo il signore, Luca No, no, se si stai, prenderla, prenderla Cambia gioco subito Brava, va bene, Luca, era giusto Aspetta, aspetta, va lì Vieni, vieni, ciò, retta Mamma, cammi, ragazzi, le posizioni Vieni, vieni, dietro Ragazzi, dobbiamo anche rientrare lì davanti Ragazzi, in cambio, venite Aspetta, 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 lascialo giù Lascialo giù, lascialo giù Lascialo giù Vieni, vieni, lascia, tiensi Tira, tira, Tio Che ti dai, te la devi dare per la palla te la devi dare, non può esistere che fai da solo dai 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 non perdiamo la lì va bene, giù la palla, giù la palla dai 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 dai抓 noa piccola a guerra Riki, 8.14 Tieni la Teo, tienila, bravo Stai Ema Ema Guarda te, guarda te Stai Teo Ma parla, non si può Ma che lui stoppa la Ma perché gliela facciamo andare al portiere? Stai Ema Bravo 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 Aiuto Ema, non parla di balsani Cambia, cambia, cambia Batti la, batti la, c'è l'auto Sì, sì, ragazzi al centrocampo si batte, i genitori non devono parlare. Calma, calma, scopera, dietro bene, via lunga Teo, 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 guarda Riffi, guarda Riffi, guarda Riffi, guarda Riffi, vai Riffi, gestione dietro eh! Ehmà, ehmà i pugni, non la mano aperta, i pugni! dai ragazzi guardalo, guardalo guarda Luca vieni là, vieni là vieni, alza a testa vieni, pezzi teo, teo a portiere ragiona abbiamo la palla in mano noi dai, via veloci dai, dai, dai guardalo 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 4 a 3 per noi 4 a 3 per noi ho appena fatto il 4 si no l'ha finita? per noi l'è finita adesso? si, si quasi ti prenderà un'altra? processo Voi! 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 Quante secondi? Qua è stato? Dai! Dai! Dai